Salve a tutti, benvenuti a questa prima lezione su Giacomo Leopardi. Oggi parleremo della vita di questo grande poeta. Le pagine del vostro libro da studiare, quelle dove troverete appunto indicazioni sulla vita di Leopardi, sono dalla 757 alla 759, escluso il paragrafo intitolato l'amicizia con Pietro Giordani e le canzoni di argomento civile, le pagine 760-762 ed infine le pagine 764-765 a partire dal paragrafo Pisa e i canti pisano-recanatesi. Andiamo appunto a vedere le pagine che ci interessano cominciando dall'inizio, cioè dalla nascita di Leopardi. Leopardi nasce il 29 giugno del 1798 e nasce in un piccolissimo paese dello stato pontificio, a Recanati, che attualmente si trova nelle Marche. Recanati nel 1798 era un piccolo paese chiuso, arretrato dal punto di vista culturale e Leopardi si sentirà sempre stretto in questo luogo, lo detesterà sempre. Suo padre era un conte, quindi un aristocratico, era il conte Monaldo Leopardi, una persona estremamente colta che possedeva una vastissima biblioteca che ancora oggi è visitabile per chi vada a Recanati a visitare appunto la casa di Leopardi. Questa biblioteca era fornitissima di scrittori classici, di scrittori cristiani, insomma c'erano tantissimi libri, migliaia di libri, però siccome Monaldo era un conservatore, un cattolico osservante, un nemico giurato dell'illuminismo sempre a disagio con le idee moderne, i suoi libri, per quanto molti, erano comunque piuttosto arretrati, non era una biblioteca molto aggiornata. La madre, Adelaide Antici, era una donna dura e bigotta che aveva questa visione piuttosto ristretta della religione, amministrava con severità il patrimonio di famiglia, infatti era lei che aveva i cordoni della borsa e in questo era molto avara nel senso che non era molto, era parsimoniosa, non era molto disposta a dare soldi soprattutto perché il marito lo aveva in parte sperperato proprio per comprare tutti quei libri che si trovavano nella biblioteca. I due ebbero cinque figli di cui Giacomo era il maggiore. Giacomo era veramente eccezionale negli studi, gli piaceva molto studiare, aveva un ingegno precoce, era sempre avido di nuove conoscenze, per cui in questa enorme e vastissima biblioteca paterna che potete vedere qui nell'immagine, in questa dicevo biblioteca paterna lui era sempre alla ricerca di nuove cose da leggere, leggeva anche a notte inoltrata e vi renderete conto che a quell'epoca non c'era la luce elettrica, per cui si leggeva al lume di candela. Questo gli provocò anche dei problemi agli occhi. Nella lettera a Pietro Giordani, un suo amico, un uomo di ricoltura, un intellettuale dell'epoca, che era però anche più grande di lui ma con il quale Leopardi intratteneva una corrispondenza proprio a dimostrazione del fatto che Leopardi era molto più maturo rispetto alla sua età, poteva intrattenere tranquillamente una corrispondenza con un intellettuale importante come Pietro Giordani. Leopardi in una delle sue lettere rievoca così la sua giovinezza appena trascorsa e dice io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo. Riconosce appunto che il suo fisico si era proprio completamente rovinato a causa di questo studio così esagerato. La cultura di Leopardi possiamo definirla da autodidatta, infatti egli non andò mai a scuola ma studiò in questa enorme biblioteca del padre insieme al fratello e alla sorella. Erano infatti sopravvissuti soltanto tre dei figli di Monaldo e di Adelaide Antici. Leopardi studiando appunto sotto la guida del padre acquisì una cultura vastissima nel campo della filologia classica. Che cosa significa filologia? Filologia significa andare a ricercare l'originale o comunque avvicinarsi il più possibile a quello che è l'originale di un testo antico. il testo così come era stato scritto originariamente dall'autore. Diventa quindi Leopardi già da giovanissimo un esperto di livello europeo di tutti gli aspetti del mondo antico, storia, geografia, filosofia, letteratura e scienze. Conosce benissimo la letteratura italiana anche se non è la sua materia preferita, almeno non in questi anni. Quello che preferisce appunto è la filologia classica, lo studio della letteratura classica. Era perfettamente in grado di tradurre così d'impronta dal greco all'italiano o dal latino all'italiano. Tuttavia, come lui stesso riconosce amaramente nel brano appena citato, paga sul suo corpo questo desiderio smodato di sapere. Infatti il suo corpo rimane poco sviluppato, molto gracile e soprattutto ha una malformazione alla spina dorsale che lo rende gobbo. Sembra che la sua spina dorsale avesse ben due curve, quindi due gobbe. Gli danneggia inoltre la funzionalità del cuore e la funzionalità dei polmoni. La sua vista si indebolisce e quindi fisicamente tutti questi anni di studio lo rendono molto debole. Questo ovviamente compromette sia i suoi rapporti con gli uomini che soprattutto i suoi rapporti con le donne. Ovviamente le ragazze non avevano molto interesse a conoscerlo e a interessarsi di lui. Una cosa fondamentale, importantissima, che dovete ricordarvi però è questa. È vero che Leopardi aveva molti motivi per lamentarsi e per dire oh quanto sto male, ma in realtà questa esperienza della malattia, della deformità, in lui non rimase un motivo di lamento individuale, un fatto privato e meramente biografico, ma divenne un formidabile strumento conoscitivo. Cosa significa questo? Significa che Leopardi parte dalla sua deformità per riflettere sulla condizione dell'umanità. Io sto male, sono disperato, sono malato, ma non sono il solo, poiché tutti gli esseri umani in un modo o nell'altro, anche più sani, soffrono. Quindi lui parte dalla consapevolezza di che cosa voglia dire soffrire, che cosa voglia dire star male e questa consapevolezza lo aiuta a capire meglio gli altri, lo aiuta a capire meglio l'umanità. Questo è il concetto fondamentale che vi deve rimanere impresso. Parte dal proprio dolore per allargarsi alla consapevolezza che il dolore non è solo suo, ma è un dolore universale di tutta l'umanità e poi arriverà a dire di tutta la natura, di tutto ciò che vive, di tutto ciò che esiste. Leopardi fu uno scrittore estremamente precoce, infatti, cominciò già dai 10-11 anni a scrivere versi, ad abbozzare trattati filosofici e a tradurre testi classici. Nel 1816 Leopardi aveva 18 anni. A questa età matura un passaggio che lui stesso definisce dall'erudizione al bello. Che cosa significa questo? Significa che decide di non limitarsi più soltanto a studiare, ma di diventare un poeta, uno scrittore. Quindi, semplicemente dall'erudizione, cioè dal semplice studio, al bello, alla poesia. Passare dall'essere uno studioso ad essere un poeta. Infatti, in questo periodo, cresce l'interesse per la letteratura, per la poesia in particolare. Egli comincia a tradurre i versi del primo libro dell'Odissea e del secondo libro dell'Eneide, e poi comincia a comporre versi propri. In quello stesso anno, Leopardi cerca di inserirsi nel dibattito culturale più moderno e scrive una lettera che non verrà pubblicata, nella quale prende posizione sulle questioni sollevate dal famoso articolo di Madame de Stal, quello che aveva dato il via al romanticismo anche in Italia. Come ricorderete, la de Stal, nel suo articolo sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, aveva affermato che la poesia italiana era troppo arretrata rispetto a quella tedesca e quindi aveva esortato gli italiani a sprovincializzarsi, ad aprirsi alla conoscenza delle letterature straniere moderne. Su quale delle due sponde si schiera Leopardi? Leopardi è dalla parte dei classicisti. Infatti, Leopardi replica nella sua lettera alla de Stal che i letterati italiani non hanno certo bisogno di prendere a modello gli stranieri perché possono trovare tutti i modelli di cui hanno bisogno nella tradizione latina e nella tradizione greca. Quindi, come dicevo, nella polemica tra classicisti e romantici, Leopardi si schiera a favore del classicismo. Ovviamente l'idealizzazione degli antichi porta con sé il disprezzo per la società contemporanea. Secondo Leopardi, la società contemporanea è colpevole di avere corrotto la natura rendendo impossibile per gli uomini vivere con essa un rapporto diretto, un rapporto autistico. Leopardi, infatti, è sì senz'altro un poeta, ma attraverso la poesia egli esprime delle idee filosofiche, cioè delle idee sull'uomo, sulla vita dell'uomo, sulla ragion d'essere dell'uomo, chi siamo, dove andiamo, perché siamo qui. E la sua visione dell'uomo è estremamente pessimistica. In questa prima fase si parla di pessimismo storico. Che cosa significa pessimismo storico? Lo vedremo meglio. Ora ve lo accenno velocemente. Semplicemente, in questo periodo della sua vita, Leopardi crede che la natura sia buona e l'uomo stoltamente, con la civiltà, abbia deciso di allontanarsi da lei. Se avesse continuato l'essere umano a vivere a contatto con la natura, avrebbe potuto continuare a vivere felice. Se ne è allontanato e questo processo di civilizzazione ha causato l'infelicità dell'essere umano. Quindi è l'uomo a essere causa del proprio male, della propria infelicità. Per questo si parla di pessimismo storico. Pessimismo, Leopardi è convinto che l'uomo stia male. Storico, la colpa di questa è della storia, cioè del fatto che l'uomo nel corso appunto degli anni si è allontanato, attraverso il processo di civilizzazione, si è allontanato dalla natura. In questi anni, e precisamente nel 1817, Leopardi inizia a tenere una specie di diario che chiamerà lo zibaldone dei pensieri. All'interno di questo libricino non si limita ovviamente a scrivere quello che gli è successo nella giornata, assolutamente no, ma inserisce le proprie riflessioni, spunti filosofici, spunti letterari, osservazioni filologiche, linguistiche, progetti poetici e trascrive anche brani di opere altrui. Quindi praticamente non c'è soltanto un discorso autobiografico, ci sono anche quelle, ma soprattutto c'è tutto un mondo di letteratura, di arte, di filosofia che Leopardi annota per ricordarselo, per portarlo con sé. Ecco una data da ricordare, il 1819. Leopardi è ormai diventato maggiorenne, ricordatevi che all'epoca si diventava maggiorenne a 21 anni e cerca di fuggire dal Re Canati, vuole andarsene da questo posto che odia. Purtroppo per lui la fuga non riesce, il padre lo scopre e viene riportato a casa. Siccome le disgrazie non vengono mai sole, ecco che sempre nello stesso 1819 Leopardi viene colpito da una malattia agli occhi che improvvisamente gli impedisce di leggere e di scrivere. Ed ecco che nella sua vita non c'è più soltanto il dolore, il dolore era qualcosa a cui ormai egli si era in qualche modo abituato, ma subentra la noia. E la noia non soltanto lo opprime, lo stanca, ma lo affanna, lo lacera dentro come qualcosa che è ancora più grave del dolore, è ancora peggiore della sofferenza. Quello che lo spaventa davvero è il senso della vanità di tutte le cose. L'uomo, l'universo, tutto non hanno senso. Leopardi scopre la mancanza di senso della vita dell'uomo e dell'esistenza stessa dell'universo. Ecco, le riflessioni concepite da Leopardi in questo periodo sono state chiamate dagli storici della letteratura in molti modi. Soprattutto la maggioranza degli storici della letteratura l'hanno chiamato passaggio dal bello al vero, dal bello al vero filosofico. Ma in sostanza che cosa vuol dire? Vuol dire che Leopardi comincia a mettere su carta non più le sue poesie, i suoi studi sulle letterature classiche, ma soprattutto le sue riflessioni sulla esistenza propria, ma anche sull'esistenza dell'universo e sulla mancanza di senso di entrambe. Quanto vi ho appena detto è dimostrato bene da questo passaggio dello Zibaldone, scritto da Leopardi il primo luglio del 1820. Leopardi parla proprio di una mutazione totale che è avvenuta in lui, il passaggio dallo stato antico ad uno stato moderno e questo passaggio è avvenuto proprio nel 1819 quando era stato privato dell'uso della vista e della continua distrazione della lettura. Ecco in quest'anno, dice Leopardi, cominciai a sentire la mia infelicità in un modo assai più tenebroso, cominciai ad abbandonare la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose, a divenire filosofo di professione, di poeta che ero, a sentire l'infelicità certa del mondo in luogo di conoscerla e questo anche per uno stato di malessere, di languore corporale, che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni. In questo periodo, a partire dal 1820, Leopardi inizia a dedicarsi anche alla prosa, infatti scrive quelle che definisce delle poesette, prosette, scusatemi, satiriche, cioè dei piccoli racconti in prosa, racconti satirici, che poi diventeranno le operette morali. Sempre nello stesso periodo Leopardi abbandona la sua fede nella religione cattolica e matura una visione del mondo del tutto atea e materialistica. E che cosa sarà per Leopardi la poesia? Quale ruolo avrà la poesia in questo periodo? Ancora scrive delle poesie, infatti, tra il 1819 e il 1821 compone gli idilli, tra i quali ricordiamo il celeberrimo infinito, quindi poesie estremamente importanti, però sono dei componimenti che hanno un valore molto particolare. Sono ormai per Leopardi l'unico momento della sua vita, l'unico luogo nel quale egli può dare spazio e voce alle illusioni. Che cosa sono le illusioni? Le illusioni per Leopardi, come anche per Foscolo, sono tutti quei valori, tutte quelle belle idee che noi possiamo riprendere dal mondo classico, ma che purtroppo nel mondo moderno non hanno più spazio, non trovano più spazio. Per esempio l'onore, la lealtà, la fedeltà, l'amore per la patria, il desiderio di morire per la patria, il desiderio di diventare eroi. Tutti questi valori purtroppo nel mondo moderno sono soltanto da vedere con rimpianto perché non possono più avere luogo. Quindi le illusioni sono cadute, Leopardi ha scoperto la verità e questo provoca in lui una nuova consapevolezza, ma questa consapevolezza non arriva al punto di dire che la natura è negativa in toto. Egli mantiene anche in questi anni una visione positiva della natura e continua a pensare che se l'uomo è infelice dipende dal fatto che storicamente nella sua evoluzione l'umanità si è civilizzata e quindi si è allontanata dalla natura. Del paragrafo che segue, Leopardi lontano da Recanati, voglio che vi ricordiate due cose. La prima è il fatto che, finalmente nel 1822 e precisamente tra il novembre del 22 e il maggio del 23, Leopardi riesce ad andarsene da Recanati e a recarsi a Roma presso gli zii materni, gli antici. Purtroppo per lui il soggiorno a Roma lo deluderà, l'ambiente culturale romano è molto arretrato e quindi al ritorno a Recanati sarà molto deluso da questo soggiorno. L'altra cosa importante è nel 1824 il fatto che Leopardi abbandonerà temporaneamente la poesia e inizierà a scrivere soltanto prosa. In prosa, infatti, scrive in quest'anno 1824 le prime 20 operette morali che verranno poi pubblicate per la prima volta in volume a Milano nel 1827. Sono un'opera dove il pessimismo leopardiano si approfondisce e dove c'è un cambiamento importante dal punto di vista concettuale. Infatti, finora avevamo detto che la natura era vista in maniera positiva da Leopardi. Ebbene, a partire dalle operette morali, iniziate come ho detto nel 1924, l'idea di Leopardi cambia. La natura viene considerata dall'autore responsabile di ogni male. Non dipende più dall'essere umano, se siamo infelici, ma dipende dalla natura. Il fatto che la natura stessa ci destina al male, ci destina alla sofferenza, ci destina al dolore. Questo passaggio, questo cambiamento viene definito dagli studiosi come pessimismo cosmico. Un altro anno importante nella vita di Leopardi è il 1828. L'inverno di quell'anno, infatti, Leopardi lo passa a Pisa e il clima mite giova molto alla sua salute. Quando dovrà rientrare a Recanati per problemi economici, Leopardi infatti comincerà a riscrivere di nuovo delle poesie. È l'epoca dei canti più importanti del poeta, i canti pisano-recanatesi, cosiddetti perché appunto derivano dal soggiorno a Pisa, ma sono stati scritti a Recanati. Tra questi, ricordiamo, tra i più importanti, a Silvia, la quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio e, soprattutto, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia che studieremo. Nel 1830 finalmente Leopardi riesce ad andarsene definitivamente da Recanati, non ritornerà più nella città natale. Degli amici toscani fanno una raccolta di denaro per permettergli di tornare a Firenze e la cosa particolare da dire è che l'amico che raccolse questi soldi, il generale Pietro Colletta, ha poi dato il nome, anche in italiano, alla raccolta di denaro a scopo di beneficenza. Infatti noi ancora oggi, diciamo, facciamo una colletta di denaro per qualcuno che ne ha bisogno. Quindi Leopardi ritorna a Firenze dove incontra e si innamora di Fanny Targioni Tozzetti, una nobile donna sposata che si diceva avesse molti amanti, ma la donna purtroppo per lui non lo ricambierà. Il rapporto umano veramente importante che nasce però a Firenze in quel periodo è un'amicizia con un uomo, il napoletano Antonio Ranieri. Ranieri era stato esiliato dalla sua patria, dal regno di Napoli, perché era un patriota e quindi per questo si trovava a Firenze. Con lui Leopardi vivrà gli ultimi anni della sua vita, ospite appunto a Napoli, a casa di Ranieri, che a un certo punto appunto potrà ritornare a Napoli. Sempre nel periodo fiorentino è importante ricordare che Leopardi scrive altre due operette morali, il dialogo di un venditore dal manacchi e di un passeggere e il dialogo di Tristano e di un amico. Dal 1833 Ranieri e Leopardi sono a Napoli e da qui appunto non si sposteranno più. Nel 1836 in una villa alle falde del Vesuvio a Torre del Greco, Leopardi scrive la sua ultima opera fondamentale, un vero e proprio testamento, la ginestra. E poi il 14 giugno del 1837, a soli 39 anni, il poeta muore. Siccome c'era un'epidemia di colera, il suo corpo avrebbe dovuto essere gettato in una fossa comune, ma fortunatamente Ranieri riuscì a seppellirlo nel latro della chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, un quartiere di Napoli e dal 1939 la sua tomba è stata spostata al Parco Vergiliano a Piedigrotta. Bene, con questo abbiamo concluso, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.